La situazione è molto grave però non riguarda solo la città di Fabriano e questo è uno dei punti di cui lei ha parlato oggi, giusto? Sì, io credo che la situazione riguardi l'intera regione perché, torno a ripeto, Fabriano è il distretto industriale, Fabriano è il suo territorio, è il distretto industriale più forte della regione Marche e quindi dà lavoro a tantissimi marchigiani e produce reddito per tantissimi marchigiani. Quindi questa è un'avvertenza regionale, anzi di due regioni se non di tre addirittura, che va affrontata con tutta la determinazione e gli strumenti necessari per far fronte, oltretutto dopo c'è l'aggravante che la sua forte concentrazione in un territorio piccolo rischia veramente di sgregare la coesione sociale del territorio ma di tutta la regione. Dal canto vostro come amministrazione che cosa potete fare? Noi non è che facciamo le industrie, noi diamo risposta ai bisogni dei cittadini, quindi cittadini che sono dall'imprenditore fino all'operaio, tutti quanti sono cittadini, quindi noi mettiamo in piedi tutti i sistemi che possono agevolare da una parte la creazione di impresa, dall'altra parte il mantenimento della coesione sociale, quindi queste sono le attività che competono alla pubblica amministrazione. E poi opera di sensibilizzazione su tutti i fronti, cominciando dall'impresa per finire al governo. E la cosa più importante secondo me in un momento così particolare, strano dell'Italia dove le diversità diventano sempre un fattore di sgregazione e soprattutto di rottura, credo che una volta tanto dovremmo invece lavorare tutti quanti insieme, uniti con l'unico obiettivo di creare i presupposti per il futuro, quindi lasciando da parte divisioni politiche, personali e tutto il resto per lavorare al bene comune, perché questo è quello che chiedono i cittadini alla politica, agli amministratori e a tutto il resto.